Non solo proteste, ma anche e soprattutto proposte, l'Unione delle Provincie Italiane si è schierata sin dall'inizio contro il disegno di riforma dell'organizzazione degli enti locali voluto dal governo Monti. Il cosiddetto decreto Salva Italia ha suscitato infatti numerose polemiche, accusato di creare caos istituzionale e risparmi irrisori per la collettività. Per questo oggi, in Abruzzo, così come in tutte le province italiane, i presidenti hanno presentato il disegno di legge che verrà sottoposto al Parlamento, un'ampia rivisitazione dell'organizzazione dello Stato che comporterà, se approvato, un risparmio di circa 5 miliardi di euro in soli sei mesi. Qual è la proposta? Intanto l'istituzione delle aree metropolitane, le città metropolitane previste dall'ordinamento degli enti locali. La riduzione del numero delle province sulla base di una verifica democrafica, economica e di estensione territoriale. Contiamo di ridurre almeno la metà le province italiane. Poi la soppressione immediata di enti, consorsi, società che succhiano alle casse dello Stato oltre un miliardo e mezzo. Non riusciamo neanche a sapere il numero esatto di questi enti. Con la riduzione delle province si ridurranno gli uffici periferici dello Stato, perché l'organizzazione dello Stato è imperniata intorno alle province. In ogni circoscrizione provinciale ci sono questure, prefetture, altri uffici periferici dello Stato e dei ministeri. Dunque noi crediamo veramente ad una proposta di legge che può dare una mano al Paese a farlo uscire da questa crisi in cui si dibatte.